Due giornate a disposizione di tutti per visitare il porto di Trieste. L'autorità portuale ha aperto i cancelli visitatori per far scoprire le attività operanti all'interno dello scalo. L'open day è organizzato in otto turni con partenza alle 9, alle 10, alle 11, alle 12, alle 14, alle 15, alle 16 e alle 17 dal museo ferroviario di Campo Marzio. Dopo una breve introduzione i visitatori verranno accompagnati in porto a bordo di un pullman, ciascuna visita alla durata di circa due ore. La prima tappa è stato il terminal di Riva Traiana, dove approderanno i traghetti che collegano Trieste e la Turchia. Gestita dalla Samer Eco Shipping, agente generale dell'armatore turco Uen Rorò. Siamo al terminal di Riva Traiana e parte del terminal di Riva Traiana è il Molo Quinto. Il Molo Quinto per il terminal è fondamentale perché è dove noi operiamo i treni. La prosecuzione ferroviaria per il nostro partner turco è considerata complementare alle linee di navigazione e anche strumento per lo sviluppo delle stesse. Quindi si è deciso con il nostro partner di investire più di 12 milioni di euro per adeguare alle nostre esigenze di sviluppo ferroviario il Molo Quinto e la nostra piasta ferroviaria. Poi il terminal multimodale, EMT Europa Multipurpose Terminal SPA. La quarta tappa è il terminal container della Trieste Marine Terminal SPA. Poi la Silucov della Pacorini, lo Scallo Legnami con il General Cargo Terminal SPA. E l'ultima tappa è il canale navigabile con la Frigomare SRL e le altre aziende. Dove siamo adesso e che tipo di attività si svolgono all'interno di questo posto? Allora siete all'interno di un magazzino del caffè di Pacorini, magazzino 73 all'interno del punto franco nuovo di Trieste. In questi magazzini viene stoccato il caffè dei vari clienti che poi viene distribuito in Italia. Caffè che arriva un po' da tutte le origini produttrici di caffè. Nel Porto di Trieste arrivano circa il 20% dei caffè che viene importati in Italia. Ricordiamo che l'Italia è il secondo importatore dopo la Germania, quindi un ruolo primario in Europa. Nel Porto di Trieste arrivano circa 2 milioni di sacchi. Ogni sacco contiene circa 60 kg della manipolazione e lo stoccaggio del caffè da lavoro a moltissime persone. Non è il contenitore solo che viene movimentato, ma c'è tutto un lavoro delle cooperative, di manipolazione, quindi da lavoro a moltissime persone a Trieste.